Entro il prossimo mese di maggio saranno pronti tutti i progetti, in particolare quelli dello Stadio Iacovone e della Nuova Piscina. Gli altri entro novembre, così il commissario per i giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale e delle richieste di realizzare il nuovo Stadio Iacovone a settori. Ferrarese si sofferma sulla sentenza della consulta e il ritorno in pista sulla progettualità e le infrastrutture della Regione Puglia. A tal proposito ha detto perderemo altro tempo sulle realizzazioni dello Stadio Iacovone. Invece dobbiamo mettere la prima pietra entro novembre prossimo. Dall'ora la ditta che avrà vinto l'appalto dovrà terminare i lavori di ristrutturazione dello Iacovone in 18 mesi. Se potrò risolvere il problema e accontentare il Taranto Football Club lo farò volentieri, ma saranno i tecnici a decidere. Voglio risolvere anche questo problema e quindi ne parlerò immediatamente con i progettisti di Sport e Salute a cui abbiamo affidato la progettazione dello Stadio Iacovone e ne parlerò anche con la Prefettura perché chiaramente sarà una questione anche di sicurezza se si possono discutere le partite mentre c'è un cantiere in piedi. Per quanto riguarda la consulta chiaramente sono soddisfatto del fatto che blinda di fatto è legittima il commissario. Dall'altra parte ci sono purtroppo per l'intesa bisogno non soltanto dei tre ministri ma ci sarà bisogno anche per i decreti del Presidente della Regione. Ora quei decreti li guarderanno insieme alla Regione, daranno l'ok con la Regione però io li aspettavo già ieri, l'altro è ieri perché non c'è più tempo. Spero che non si perda altro tempo perché chiaramente i giochi, soprattutto per i lavori più importanti per gli impianti più importanti, in questo momento non c'è la possibilità di perdere nemmeno un'ora.